Eccoci qui allo stand Cap Italia, abbiamo appena finito la Coppa delle Nazioni, l'Italia vincitrice per la seconda volta, un'edizione rinnovata, un'edizione fortunata e Cap Italia è sempre vicina al mondo dello sport equestri, sempre con attenzione verso la sicurezza. Sì, soprattutto perché amo Roma, amo Piazza di Siena, amo vedere le gare, amo vedere i nostri ragazzi vincere e sono definitivamente felice per la vittoria della squadra. La sentivo, l'ho anche detto ieri, non c'è il 2 senza il 3, visto che avevano fatto Piazza di Siena lo scorso anno, poi San Gallo, e ho detto a questo punto ce la giochiamo qua e sono veramente entusiasta per loro e per la federazione, anche perché Piazza di Siena in questa veste è veramente una cosa bellissima, ha un contorno, la natura e poi tutti quelli che sono i monumenti di una città qua di Roma è sicuramente regione più, grazie che la federazione abbia pensato a trasformarlo nuovamente. Questa campagna Think Save, Think Cap, campagna sulla sicurezza? Abbiamo, sì, è una campagna sulla quale abbiamo puntato tutto il 2018 e il 2019, puntando proprio Safety First, e la nostra comunicazione è quella di dire a tutti, pensate sempre alla sicurezza, in qualsiasi momento della vostra giornata, la vostra vita, la vostra attività, quindi è una campagna un po' globale, punteremo proprio a stimolare la gente a imparare, ad usare il casco, ad essere più attenti nelle gare, ad essere più attenti anche quando cammini col cavallo, ad avere i body protector e pensare proprio a sicurezza perché è la vita delle persone, è la vita delle persone, salvaguardarle. Grazie mille. Grazie.